Che cos'è Social Mama? Beh, Social Mama è un punto di incontro tra mamme, insegnanti, tra chiunque abbia voglia di raccontare le proprie esperienze e di confrontarli. Social Mama è una nuova concezione di web sociale. L'utente di Facebook può visitare il sito direttamente dentro Facebook. Chi invece si reca direttamente su www.socialmamma.it può trovare le stesse identiche cose, le stesse identiche pagine con i bottoni mi piace, commenta. In sostanza, Social Mama è un modello di web perfettamente integrato con i social network ed è un modello assolutamente innovativo. Come lascia Social Mama? Social Mama è nato quasi per gioco. Capita che a scuola i genitori ti chiedono consigli appunto per i loro figli e così gli insegnanti durante i progetti e i servizi di consulenza si chiedono consigli. Tutto mi suggeriva che c'è questo forte bisogno di parlare. E perché non parlarne online? È un'intuizione. Si parlava di possibili progetti da portare avanti insieme e ho un flash, Social Mama. Vengo pesantemente insultato dalla dottoressa Minervini qui a lato che mi dice io ti sto parlando di cose serie e tu te ne vieni fuori con la Social Mama. Beh, insomma, dopo sei mesi siamo qui. Qual è il tuo ruolo? Beh, il ruolo dello psicologo, della psicologa in Social Mama è quello di gestire le conversazioni tra gli utenti, di fornire un'interpretazione psicologica degli eventi che se vorrete racconterete non si tratta di consulenza online, si tratta di creare degli spazi di confronto, si tratta di arricchirsi reciprocamente. Il mio ruolo è quello di garantire la massima interazione degli utenti. Social Mama, perché? Beh, se fossi una pubblicitaria direi Social Mama siete voi, perché siete proprio voi il valore aggiunto di questo progetto, le vostre storie, i vostri racconti, la vostra realtà di ogni giorno. E anche per le scuole, per le insegnanti, per le babysitter. Insomma, per chiunque si trovi a relazionarsi con un bambino, con un ragazzo e a voler esplorare il suo mondo, di capire alcuni suoi modi di fare, di essere e di stare al mondo. Social Mama è un modello, è un modello innovativo, è un modello in grado di far acquisire vantaggio competitivo che tutte le aziende dovrebbero adottare. Qual è lo sblocco di Social Mama? Crescere insieme. Che cosa vorreste dire aiutanti di Social Mama? Crescete e moltiplicatevi. Interagite, partecipate e cresciamo insieme. Che vuoi che ti dico aiutanti di Social Mama? Grazie dottoressa, mi è stata molto utile. Ah, dimenticavo, complimenti per il progetto, è bellissimo. Fa venire voglia di comunicare, fa venire voglia di interagire e di partecipare. Dai anche gli utenti di Social Mama. Social Mama, li aspetto online. Ora vado che c'è mia nipote che chiama. Ciao!